Amici sportivi di Odeon, buonasera e ben ritrovati con il penultimo appuntamento della stagione di Safe Drive Motorsport. In questa puntata, occhi tutti puntati sul torfeo Maserati MC World Series 2013. In compagnia ovviamente di importanti ospiti, vado subito a presentarli. Alla mia destra Luca Dalmonte, direttore relazioni esterne Maserati. Buonasera Luca. Buonasera Alessio. Tra l'altro Luca reduce anche da una puntata in studio con noi con Safe Drive e con una Ghibli maestosa qui nei nostri studi. Alla mia sinistra Giuseppe Fascicolo, uno dei protagonisti del trofeo. Buonasera Giuseppe. Buonasera e grazie dell'invito. Assolutamente, grazie a te di essere qui con noi. Poi ci racconterai durante questo approfondimento che cosa vuol dire sedersi a volante di uno di questi bolidi e cosa significa partecipare a questo trofeo che ha una connotazione veramente internazionale. Luca, sono diverse stagioni ormai che va avanti questo importante appuntamento. Maserati DNA fortemente sportivo e avete creato una serie che in questi anni vi ha dato grosse soddisfazioni. Assolutamente sì, una serie che è andata crescendo in interesse e dimensioni. Questo che sta per finire il quarto anno, ci sarà un quinto anno ovviamente l'anno prossimo, un anno importante perché coincide con il centenario dell'azienda. ed è una serie di monomarca che penso abbia riscosso, e poi lo chiediamo Giuseppe, i favori delle persone che hanno partecipato perché i ragazzi si divertono guidando dalle automobili di un certo prestigio. Certo, sei gare, tutte a livello internazionale, circuiti affascinanti, pubblico, devo dire, importante, no? Pubblico importante e questa è una delle cose belle di aver corso quest'anno nel trofeo Maserati come anche l'anno scorso, ma accendo qualcosa sul fatto che non ci sia una tappa in Italia, secondo me non è un problema da pilota, anzi è una soddisfazione correre all'estero dove il pubblico è sicuramente più appassionato a tutte le attività motoristiche, non solo a campionati come Formula 1 o di altra importanza tipo MotoGP. Ti interroppo un attimo Giuseppe, chiediamo a Luca, in qualità di rappresentante di Maserati, la scelta di non correre una gara in Italia ha una precisa chiaramente... Una connotazione data dal fatto che chiaramente i nostri mercati oggi sono per il 95% all'estero, l'Italia vale a livello di vendita e vetture il 5%, a parte che abbiamo provato a Misano, a Mugello, quindi le prove pre-stagione sono state fatte tutte, tre appuntamenti in Italia, poi si è privilegiata l'Europa ma soprattutto poi il mondo, si è corso a Silverstone, a Port Riccardo, a Nürburgring, ma poi ancora a Sonoma in California, a Shanghai e l'ultima gara da Abu Dhabi. Giuseppe, Luca ha citato due circuiti che per gli amanti delle corse che ci seguono da casa rappresentano un po' la storia, Nürburgring e Silverstone, ti chiedo subito che emozione hai avuto correre in quel contesto? Erano due dei tre circuiti nuovi che avrei affrontato quest'anno e Nürburgring è stato qualcosa di eccezionale, lì c'era molto pubblico, la pista è molto tortuosa, molto stile vecchio, anche se comunque è stata molto rinnovata, e quindi ci vuole abbastanza grinta e abbastanza attenzione in tutte le parti del circuito, ci sono delle curve ancora insidiose, è difficile superare, però l'emozione è grande. Silverstone invece me l'aspettavo diversa, corre con una vettura a turismo, non è come vedere la Formula 1, ci sono le backers che in realtà non le fai come le vedi nella Formula 1, ma le tagli più possibile, sali sui cordoli e ne fai due su quattro praticamente, molto bello. Ti interrompo un secondo, hai detto gara 3, come viene sviluppato a punti di regolamentare ogni appuntamento? Il campionato è organizzato molto bene perché dà la possibilità di correre sia da soli che in coppia, nel caso si corre in coppia uno dei due piloti fa una qualifica per la sua gara, quindi qualifica uno per gara uno, qualifica due per gara due, mentre in gara 3 che viene chiamata la gara endurance da 50 minuti, c'è uno spazio dove c'è un pit stop obbligatorio sia per chi corre da solo e per chi corre in coppia, dove bisogna fare il cambio pilota in 45 secondi. Il punteggio è diverso, le due gare sprint da 30 minuti hanno una classifica e un punteggio, mentre in gara 3 il punteggio è maggiorato proprio per la difficoltà della gara, detto te. Luca, Gran Turismo MC è una vettura che da un punto di vista prestazionale non ha bisogno di presentazioni, negli ultimi anni probabilmente non ci sono stati poi tanti sviluppi, probabilmente si è già trovato fin da subito il giusto compromesso tra prestazioni e divertimento. Quello senz'altro sì, però chiaramente di anno in anno la vettura viene aggiornata proprio per dare poi anche soddisfazione a chi corre più stagioni e la maggior parte dei nostri piloti corrono più di una stagione e di assaporare ogni volta qualche cosa di nuovo. Però come diceva giustamente, chiedegli di Shanghai, dell'ambiente, del pubblico, dell'entusiasmo che hanno trovato a Shanghai. Sì, anche perché a Shanghai Maserati ormai gioca in casa, no? Sì, è vero anche quello. Beh, Shanghai è stato, penso quest'anno, l'evento più dopo Sonoma, che comunque abbiamo corso insieme alla Formula Indy, quindi spettacolo alla grande, ma l'entusiasmo del pubblico cinese è stato fantastico. C'era la Ressa, abbiamo creato una sessione autografi come fanno i grandi campionati, è stato molto bello firmare gli autografi e vedere la gente che ci assaltava per avere un poster con un autografo, quindi un entusiasmo veramente grande su questo campionato. Ecco Luca, vetture che sono alcune di proprietà, altre acquistate direttamente da team privati. Come avete pensato di sviluppare poi nel corso del tempo questa serie? Beh, la serie innanzitutto è andata sviluppandosi poi proprio col passaggio, col passare del tempo. Il discorso nostro è quello di avere, quelli che una volta venivano chiamati Gentleman Driver, che in un'azienda come la Maserati, che festeggia il cento anni, che è proiettata al futuro, è comunque un termine che ancora piace molto, quello di Gentleman Driver, cioè il professionista, che non è un professionista delle corse, ma nella vita fa altro, è un personaggio di successo a livello personale, che poi si concede il lobby di correre con una vettura come le nostre Maserati. Giuseppe, facciamo finta che Luca non ci sia in questo momento e ti chiedo, quali sono i pregi e i difetti di questo Monomar e soprattutto perché hai scelto di gareggiare in questo trofeo? Io vengo da sette anni di Ferrari Challenge e la paura di trovare un altro campionato all'altezza era abbastanza elevata. Devo dire che non abbiamo fatto assolutamente nessun passo indietro, ma credo a livello di visibilità e di importanza del campionato, sicuramente i miei sponsor sono rimasti soddisfatti di questo campionato, di come è gestito e della visibilità che dà. Pregi e difetti? Pregi sarebbero troppi da elencare, quindi onestamente il campionato è bello, la vettura è bella da guidare, è molto racing, non c'è ABS, non ci sono controlli, lo step evolutivo che hanno fatto dalla versione vecchia alla nuova aerodinamico la rende un po' più semplice, ma essendo più semplice per tutti tutti vanno più forte e quindi è comunque difficile arrivare tra i primi. I difetti, se devo trovare un difetto, l'unico difetto potrebbe forse essere, che è una cosa bella del campionato, trovare il tempo per affrontare le trasferte così lontane. Ecco, Luca, facevi riferimento al concetto dei gentleman drivers, però ricordiamo, l'abbiamo visto durante la stagione seguendo i vari appuntamenti, questo è un trofeo dove la partecipazione non è fatta solo da piloti italiani come Giuseppe, ma c'è anche una eterogeneità data da... Dalla provenienza geografica, assolutamente sì, direi che assolutamente sì, in linea con quello che è il marchio Maserati, quelli che sono poi l'evoluzione dei nostri mercati, per cui i piloti italiani costituiscono ancora il nocciolo duro del gruppo, però chiaramente ovunque andiamo ci sono piloti locali che magari corrono solo quella gara, oppure altri piloti internazionali, soprattutto europei, che poi seguono di volta in volta il trofeo e si spostano di paese in paese. Ti chiedo, Luca, quasi in conclusione, il ricordo di Maserati in manifestazioni sportive ufficiali come il Mondiale del Gran Turismo è ancora fresco e vivo? È possibile ipotizzare un ritorno ufficiale della Casa del Tridente in quest'ottica e poi al contempo se ci saranno delle novità per questo tipo di trofeo per il 2014? Parto dalla fine, novità per il 2014 ce ne saranno senz'altro, compreso l'evoluzione della vettura. Ripeto, è un discorso che non deve mai rimanere fermo, quindi di anno in anno si cambia sempre qualcosina all'interno di un modello che funziona. Noi nel 2010 con Andrea Bertolini e l'MC12 abbiamo vinto il titolo mondiale FIA GT, per cui come Maserati sappiamo e sentiamo di avere il DNA delle corse all'interno della nostra filosofia di marchio. Quindi senz'altro l'impegno continuo a livello di campionato monomarca, 2014 e oltre, però chiaramente Maserati non abbandona assolutamente il sogno, l'idea di tornare un giorno anche nelle massime forme dell'automobilismo. Certo. Giuseppe, in chiusura, tu rappresenti la categoria dei gentlemen, citiamo due grandi professionisti che hanno fatto parte di questo trofeo quest'anno. Sicuramente Reno Kuppens, un nuovo pilota, Michael Mack, Alberto Cola, Riccardo Ragazzi. Ecco, in un momento così difficile per il motorismo sportivo è bello, in conclusione direi poter in qualche modo segnalare un monomarca che funziona e che ha un grande DNA e soprattutto una grande partecipazione, sia da un punto di vista di pubblico sia da un punto di vista di piloti. No, corretto, assolutamente. È in linea con quanto noi cerchiamo di fare come Maserati, vive sì grazie alle nostre vetture, alla nostra organizzazione, e a quella di Amato Ferrari, ma vive soprattutto grazie all'entusiasmo di questi ragazzi che vengono a correre in giro per il mondo con noi. Bene, un ringraziamento speciale va Luca Dalmonte, direttore relazioni esterne di Maserati. Grazie Luca di essere stato qui con noi. Grazie a te Alessio. In bocca al lupo Giuseppe per il tuo ultimo appuntamento ad Abu Dhabi e speriamo chiaramente di rivederci l'anno prossimo. Grazie a voi e ciao. E per voi appassionati sportivi, la puntata di Save Drive Motorsport non finisce qui, ora spazio alla rubrica di Racing Time. Grazie a tutti.